benvenuti nel mio nuovo video tecnologico oggi vi racconto un prodotto che mi hanno inviato per testare e l'ho fatto davvero con tanto entusiasmo e capirete il perché durante questo mio video sto parlando del xbot go è un gimbal, uno strumento versatile progettato per catturare muovendosi in automatico le azioni di gioco e anche volendo trasmettere in streaming le partite di molti sport soprattutto sport di squadra ovviamente come il calcio, il basket, il calcetto e tanti altri ora vi racconterò alcune sue caratteristiche e poi l'unico modo per testarlo è metterlo in difficoltà sul campo e in che modo lo metterò in difficoltà beh seguite il mio video che vi spiego tutto e ovviamente non dimenticatevi di darmi un like, di iscrivervi al canale e se avete degli amici con figli che gioano a calcio, a basket, a calcetto ma anche addetti ai lavori allenatori, dirigenti di piccole società o squadre sportive, dilettantistiche o anche amatoriali beh fateli vedere quanto è ganso questo oggetto che oggi vi porto nel canale inviandoli il link di questo video direttamente con whatsapp beh io ho la passione sfrenata per lo sport e la tecnologia e ho due ragazzi che entrambi gioano a calcio, me lo fanno dalla vita a mio babbo che purtroppo non è più qui con noi quando erano piccoli, avendo lui passione per il video quando veniva a vedere i suoi nipoti portava sempre la sua cara videocamera e spessissimo riprendeva le partite, lo faceva direttamente a mano io ho tantissime clip registrate da lui di questi ragazzi loro da piccoli erano davvero divertenti andare a vederli giocare Giulio ha anche un bel passato nelle giovanili di squadre di serie A e se non fosse stato per mio babbo, beh non avrei nulla di loro di quando erano piccoli, piccoli e giocavano beh mi ricordo benissimo ai tempi che Giulio giocava nelle giovanili del Siena mi sembra erano giovanissimi B, erano piccoli, facevano già incontri tra squadre e professioniste avrà avuto 14 anni ma erano pazzeschi e noi riprendevamo, i miei genitori, le partite dalla tribuna usando appunto una camera su un cavalletto e la muovevamo a sensazione perché o riprendevamo la partita oppure la guardavamo e così uscivano immagini, a volte perdevamo il pallone, insomma pessime solo quando veniva mio babbo le riprese erano davvero ben fatte e esempio, se vi piace il calcio, beh io lo voglio condividere questo ve lo voglio far vedere questo era il Siena dei giovanissimi ragazzini di 14 anni che se conoscete la Playstation beh loro, andare a vedere loro era come vedere una partita giocata con quella console guardate un po' guardate un po' erano pazzeschi, erano pazzeschi cioè, aver avuto sta roba a quei tempi sarebbe stato davvero il massimo cioè, le avrei tutte custodite lì, le partite ben riprese perché a quei tempi purtroppo non ritorniamo più voi lo sapete che a me piace portarvi dentro le mie sensazioni e dunque dopo aver usato lui mi sono detto ma lo avessi avuto a quei tempi ai tempi che si andava a riprendere partite questo oggetto sarebbe stato pazzesco ma figuriamoci, nemmeno me lo sognavo qualche anno fa per farvi capire che oggetto sia però lo andremo, come vi ho promesso a testare in situazioni molto difficoltose in un campo da calcio ad un allenamento di una squadra dilettantistica di sera con luci artificiali ma non solo riprenderemo una partitella tra casaccati senza un riferimento della linea di metà campo e ci metteremo a una distanza molto vicina dal rettangolo di gioco per cui il gioco veloce lo disturberà sicuramente mi metterò proprio dentro la porta da gioco e dunque come vi ho detto lui è ideale per gli appassionati di sport e i genitori desiderosi di registrare le partite e gli allenamenti dei propri figli questo gimbal assicura di non perdere nemmeno un momento dell'azione e dunque prima di andare fuori e farvi vedere sul campo realmente quello che ero in grado di fare vi racconto qualche piccola caratteristica di lui lui si usa con uno smartphone grazie a un'app molto facile da usare appunto direttamente dell'azienda un'app compatibile sia android che ios e lui è un classico gimbal guardate proprio tipico che l'ho testato anche con la camera classica del mio smartphone e va decisamente bene anche mentre cammino sull'asse z ha un tracciamento automatico avanzato che utilizza la tecnologia di arrivamento della posa e anche del movimento ha un'ottima stabilizzazione dell'immagine che funziona molto bene per riprese chiare e senza interruzioni o anche traballamenti lo stile è il classico come detto gimbal assomiglia moltissimo a un gimbal come vedete della DJI è facile da trasportare perché come vedete si può tranquillamente piegare e si ripone ha una custodia ha funzioni di scatto intelligenti inclusi gli scatti panoramici con copertura fino a 340 gradi è ovvio per usarlo come facciamo noi abbiamo bisogno comunque di un treppiedi abbastanza alto che vendono a parte oppure potete comprare tranquillamente di quelli a basso costo loro vendono separatamente anche un telecomando compatibile compatibile per mandare la app ovviamente a distanza e dunque mettiamoci in moto e andiamo a vedere all'aperto cosa ci offre sono qua al campo come vedete qui in Toscana è freddo ma questa è l'unica occasione per poter testare il mio nuovo gimbal ma non solo la nuova app che mi consente di seguire un'azione di gioco in questo caso calcio perché come vedete qua siamo in un campo da calcio purtroppo o per fortuna io posso solo testare questa cosa qui durante un allenamento serale di una squadra dilettantistica qui in Toscana dove faranno in questo piccolo campetto vedete c'è le porte una qua e una dalla parte opposta e qua faranno un piccolo allenamento una piccola partita e vediamo se riesce a funzionare tutto intanto quello che voglio dirvi è solo questo andiamo a analizzare insieme questo oggetto come me lo sono piazzato vi faccio vedere alcune cose sotto questo aspetto poi faccio una provettina io personalmente muovendomi che è di fatto un active track e poi entreremo nel vivo e vedremo con poca luce in una situazione non di centrocampo come chiede l'azienda quando chiede di fare il test ma in un piccolo campetto 7 contro 7 qual è il risultato e cosa viene fuori dunque sono molto curioso prendiamo subito l'oggetto che è lì già posizionato dentro la porta e vi spiego tutto noi abbiamo messo il nostro oggetto qua pronto ok e cosa facciamo andiamo ad impostare ovviamente tutte le funzioni che ci consentano di far sì che lui riesca a riprendere la partita in modo continuo, fluido e soprattutto automatico usando l'app ovviamente di default che si chiama Xbot che di fatto è il prodotto che stiamo recenzendo e stiamo provando proprio oggi e questa applicazione è davvero interessante perché ci consente di tracciare non solo una partita di calcio ma ci consente di tracciare basket, rugby, golf e se scegliamo calcio andiamo a vedere un attimo andiamo un po' andiamo qua ci sono una serie di opzioni qui sta passando si stanno allenando eccolo qua, Socher scelto andiamo avanti con Next e lui praticamente ci chiede a questo punto che tipo di partita è? 5 contro 5 7 contro 7 oppure 11 contro 11 in questo caso questa è una piccola partita di allenamento porticine piccoline e noi scegliamo questa opzione qua ok? poi ci dice over 14 under 14 qui sono è calcio di adulti per cui scendiamo over 14 siamo pronti con lo start per iniziare è possibile volendo cliccando qua sopra anche scegliere ovviamente l'attività football single se andiamo a cliccare andiamo a cliccare su questa opzione eccola qua gli diamo Next e lui praticamente ci andrà a selezionare le persone che sono presenti all'interno del nostro andiamo a registrare lui va a cercarsi vedete fa una ricerca delle persone che trovo ovviamente siamo molto lontani io se mi inserisco qua davanti lui mi dovrebbe individuare ecco che comincia a ruotare e inizia a riprendermi per cui io potrei fare attività potrei muovermi e lui di fatto mi mi segue con fluidità e mi riprende scegliamo questa opzione qua scegliamo over 14 siamo pronti con lo start per iniziare uno e due veloci 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 su dai si passa un tocco solo sempre tutti amici un tocco solo su veloci veloci andiamo andiamo veloce vai vai su alla porta arriva su alla porta vieni 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 su vieni su vieni su canta vieni su con la sporra corta canta vieni vieni con il traseggio non mi importa la velocità voglio il traseggio ovviamente siamo molto vicini e lui fatica un po' a riprendere il gioco ma trova esattamente la palla piano piano e la inquadra spettavolare gioca 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 verde celeste celeste verde su dai fantastico due tocchi due tocchi proviamo due tocchi due tocchi uno e due celeste verde verde celeste su vai veloci veloci su su due tocchi obbligatori due tocchi obbligatori due tocchi obbligatori ora Adamo Non voglio vedere scoprire la palla Non voglio vedere scoprire la palla Deppa Deppa ha oltre il suo senso e l'avversario Su, non lo scopri Su, anzi Allarghiamo anche queste mani Verde, celeste, celeste, verde Su, dai Fantastico Due tocchi, due tocchi Proviamo due tocchi Due tocchi, uno e due Celeste, verde, verde, celeste Su, dai, veloci Due tocchi obbligatori Deppa ha oltre il suo senso e l'avversario Su, non lo scopri Su, anzi Allarghiamo anche queste mani, non ci vergogniamo Su, dai Più veloce, più veloce, più veloce Non scoprire la palla Non scoprire la palla Su, su, su Dai, dai, dai Su, dai, si passa un tocco Verde, celeste, celeste, verde Un tocco, via Bravi, bravi Su, su Dai, 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 dai Più rapidi Più rapidi Più rapidi Su Bravo Michele, dai Gira, gira, gira Vieni a fare il fraseggio Via, via Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Bravo Sardu Su, col fraseggio Col fraseggio Col fraseggio Tu, su, su Zoha Dai, veloce Veloce, veloce Veloce Vabbè ragazzi Veloce Il reddito è fantastico Beh, avete visto Per oggi è tutto Questo è un oggetto davvero funzionale E adesso La prossima Volta Sarà una partita Dalla tribuna Voglio testarlo Dalla tribuna Con un raggio Decisamente maggiore Più grande Di azione Intendo Più distante E dei riferimenti Precisi Del campo Come il centrocampo Come proprio Indiano loro Dunque Ci si vede Alla prossima Con Spero Interessanti video Del big Che apprezzate Ovviamente Qua nel canale Ciao Alla prossima Un abbraccio